Al Dino Castel San Giorgio Alla luce delle sconfitte ottenute nell'ultimo turno, ci attende una partita tra due squadre determinata a portare a casa la vittoria. Chi concluderà questo periodo negativo portando a casa l'ultima vittoria del 2016? Besenello Mattarello Dopo aver maturato la quinta sconfitta stagionale, bisogna iniziare a fare i conti con una classifica severa ma che rispecchia l'andamento altalenante di bianco-azzurri e rosso-neri. Tre punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Cristo Re Ozzolo Maddalene Nove punti in tre partite hanno galvanizzato la compagine giallorossa, ora nella metà alta della classifica. I bianco-verdi porranno fine al magic moment del Cristo Re e ripeteranno la splendida prestazione contro il volano. Leno Azzurra Entrambe le formazioni sono in ottima salute, ma in questo big match solo una può ottenere tre punti. Gli azzurri troveranno una vittoria che può spaccare la classifica o permetteranno all'aleno di rientrare nella lotta per il titolo? Marco Sacco San Giorgio Partita molto interessante tra le due rovere tane, che nell'ultimo turno hanno ottenuto bottino pieno e vogliono fare altrettanto questa domenica. Per la capolista si prospetta una delle trasferte più difficili del campionato. Trambileno Spor Maggiore I nero-verdi hanno interrotto la striscia positiva, disputando comunque un'ottima gara contro l'Azzurra, mentre il successo dei giallorossi ha permesso di uscire dalla zona rossa. Chi otterrà tre punti vitali in chiave salvezza? Volano a TNT Montepeller Il doloroso K.O. nell'ultimo turno ha costato l'aggancio in vita ai biancorossi, ma è obbligatorio chiudere al meglio l'andata per non dover partire svantaggiato in primavera. Trasferta difficile per la TNT che ha bisogno urgente di punti. Il doloroso K.O. nell'ultimo turno ha costato l'aggancio in primavera.